Nuove generazioni e antiche e radicate tradizioni si uniscono in un'unica grande passione per la caccia agli anachidi. I due stanti da vedere sono molto belli, hanno proprio un sapore romantico. Passione acquatici la nuova stagione, dal 6 dicembre ogni lunedì alle 21.30 in esclusiva su CacciaTV. Passione acquatici la nuova stagione.